in linea con quelli che sono i valori che la carta tecnica suggerisce anche se probabilmente Tiger Griff era più attendibile di tirita nel ruolo di favorita ma adesso tutto è pronto, si va a formare l'allineamento e va dunque in partenza la sesta corsa di Palermo sesta corsa di Palermo, femmine di 3 anni sul doppio chilometro al gioco 7 tirita e 6 Tiger Griff le più appoggiate si va allo stacco, emerge bene Tiger Griff che in poche battute va a assumere il comando nei confronti di Tania Deiulivi e di Tressi Laksimi che però fatica a trovare posto in corda per l'inserimento di Taituer infatti resta scoperta, in quarta posizione ha steccato Tennessee F ben filtrata dalla seconda fila adesso è Tina l'estremo outsider della corsa che prova a venire avanti mentre anche Tirita dopo partenza molto cauta di recente spesso sbagliata in partenza comincia a risalire per corsie esterne molto aggressiva questa Tina che ha chiuso a quota di 289, non ha assolutamente prestazioni la porta Francesco Puccio al lato di Tiger Griff che raggiunge i primi 600 metri in un comodo 48 e spiccioli dunque al comando Tiger Griff in seconda corsia l'estremo outsider Tina poi un'altra pariglia formata da Tania Deiulivi e da Tressi Laksimi e poi ancora la terza pariglia quella formata da Taitu R e da Tirita più indietro Tennessee F di fuori anche gli altri con il numero 8 di Tagora Jet e allora andiamo a vedere il primo chilometro, il primo chilometro davvero di tutto riposo 1.22 a questo punto Cesare Ferranti chiaramente deve puntare in avanti per andare ad aggirare in terza ruota Tina e andare a prendere sotto tilo Tiger Griff, sono le due più attese adesso se la giocheranno in questa volata finale in rincalzo alle due più attese c'è ancora Tania Deiulivi adesso naturalmente Gaspare Loverde un temporeggiatore spesso nelle sue gare di testa tende a graduare più che può deve naturalmente cambiare cadenza per far pesare la corsia esterna a Tirita mentre resta ben attaccata Tania Deiulivi ai due Miglio in 2.52 quindi 45 questi 600 metri di Tiger Griff adesso anche Taitu R si avvicina anche Tagora Jet siamo nelle battute decisive con Tiger Griff ancora al comando Tirita che le incalza sempre più da presso entrano in rete d'arrivo ma si avvicinano anche gli altri Taitu R e anche Tania Deiulivi all'interno vediamo un po' è stanca Tiger Griff si infila all'interno Tania Deiulivi arriva veloce Taitu R e sul palo e beh sul palo sicuramente ha perso Tiger Griff ancora una sconfitta dopo gara di testa e fra Tania Deiulivi all'interno e Taitu R all'esterno è molto molto stretta la mia impressione a caldo è stata quella che il 2 di Tania Deiulivi ce l'abbia fatta a sfuggire a Taitu R ma vediamo un po' se il replay ci dà una mano per capirne di più come vedete Tania Deiulivi ha sicuramente superato all'interno Tiger Griff e sul palo e no davvero molto molto stretta forse c'è una narice a favore di Taitu R con insediolo Antonino Pecoraro che neanche il trane ricolori del signor Giuseppe Mangione sul mio cronometro un tempo di 2.36 e qualche linea 18.12 decimi per Taitu R che pagherebbe 5.18 se l'impressione è giusta e se l'ordine d'arrivo è come credo 1.26 ma molto stretta la foto fra 1 e 2 per la sesta corsa di Palermo quindi bisogna attendere il risponso del fotofinish adakoffice la foto fra 1 e 2 so che a